Due scontri inimportanti aprono il tredicesimo turno di ritorno del campionato di Serie A. Si parte con la sfida delle Friuli alle 18 tra Udinese e Milan. I Friulani cercano punti salvezze inimportanti contro i rossoneri che devono dimenticare la delusione nelle derby con i cugini dell'Inter che invece sono attesi in casa alle 20.45 ad ospitare la Roma di Rudy Garcia, protagonista di un avvicente duello per il secondo posto con i cugini della Lazio e riscattare il deludente 1-1 interno contro l'Atalanta.